A tutti i tazzi, grandissima sorpresa, straordinaria sorpresa, mi trovo qui con un'artista 360 gradi, attrice e soprattutto cantante, Alma Manera. Grazie, grazie. Un bacio a tutti e tanti, tanti, tanti saluti insieme al grandissimo salutatore. E la manina è per te per salutare tutti i tuoi fan. Viva l'Italia. Viva l'Italia, ciao. Viva l'Italia, ciao.